Tanti anni sulla piazza, tanto impegno, tanto lavoro, attenzione, cura della materia prima e dei particolari portano anche ad avere dei riconoscimenti a livello internazionale. A livello internazionale, ormai tre anni che siamo premiati come gelateria dell'anno, è tutto qui il premio che abbiamo, è una commissione europea, non partecipiamo a delle cose con dei prodotti, però è questa commissione che gira in tutti i locali d'Italia, ristoranti, bar, pizzerie e anche gelaterie, dove per tre anni hanno ritenuto che noi siamo la gelateria migliore d'Italia, così dicono, loro guardano tutto, guardano dal prodotto che si adopera, da come viene tenuto il gelato in qualsiasi momento del giorno, forse guarderanno anche noi se siamo dei bravi gestori o meno, così a 360 gradi poi valutano questa cosa e c'è un riconoscimento che viene fatto in una carmesse a un hotel di Rimini ogni anno e sono tre anni che ci chiamano. Ed è la secca perché voi non conoscete, non sapete quando vengono, chi sono, così all'oscuro. All'oscuro, potresti essere anche te, che vieni qua e dici questo è il prodotto provato, noi adesso conosciamo il presidente che si presenta qui addirittura di notte, poi lui fa torno, guarda come facciamo, ma è l'unico, ma altri componenti di questa commissione sicuramente vengono, ma noi non li conosciamo. Il bello è che il contesto della gelateria non è mirato solo al prodotto, è tutto il contesto della gelateria, dell'esercizio che viene analizzato, questo è importante. E questo è importante anche l'impatto che ha il cliente quanto entra, questo prodotto che viene presentato in questa vetrina così, insomma, loro piacciono queste cose qui e controllano che tu fai bene il tuo lavoro, io non lo so se lo faccio bene. Grazie a tutti.